Devo dire che la giornata fino a testa è stata molto interessante, abbiamo iniziato con la mental coach e devo dire che ho trovato, insomma, ho visto questa differenza un po' tra i benefici, insomma, durante il rilassamento più che altro, insomma sono riuscito anche qualche volta a restrenarmi da quello che mi circondava e ho trovato beneficio in questa respirazione così addominale che prima, insomma, magari tante volte non si fa e quindi adesso ho trovato, insomma, abbastanza benefici in questo e devo dire che la giornata sta andando molto bene, adesso abbiamo fatto un po' di pratica sulla tecnica della battuta e del dritto cose che non conoscevo magari tante come tecnica, quindi devo dire che, insomma, la giornata vuol ver meglio Ok, grazie Prego